Cosa ci dovremmo aspettare in OP09? Quali saranno i colossi che domineranno il meta? E chi finirà nel dimenticatoio, lasciando il passo a nuovi leader pronti a darsi battaglia nel nono atto del TCG di One Piece? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Il nono capitolo del GCC a tema piratesco ha iniziato a lanciare le bombe, che vedranno un tematico di set farla da padrone in un meta che si prospetterà davvero molto interessante. Si rischierà anche di assistere ad una tier completamente mutata, differente rispetto a quella che conosciamo oggi, viste anche le varie limitazioni e bend in previsione fra meno di un mese e l'arrivo di un altro leader che potrebbe riportare in auge uno dei colori che ultimamente non ha reso al massimo, ovvero il rosso. Partendo dal The Best quindi, che uscirà fra pochissimo in Oriente per poi arrivare anche da noi qui in Occidente e i quattro imperatori che confermeranno o confuteranno ogni teoria fino ad ora creata, andremo a prendere in esame l'ipotesi dello stravolgimento morfologico del meta stesso, che porterà, a mio parere, due deck più uno su tutti a dominare la fascia alta della tier, cancellando definitivamente ogni traccia dei tanto famigerati Enel e Compagnia che ai giorni d'oggi sono temuti in ogni dove. Vuoi dare il via alla tua avventura come collezionista nello sconfinato universo dei TCG ma non sai da dove iniziare? Colleziono da Zero è la soluzione che fa per te. Con questa guida dettagliata imparerai non solo a conoscere le basi di questo mondo, ma anche le strategie avanzate per massimizzare il valore della tua raccolta. Che tu sia alle prime armi o un amatore, questo libro sarà la bussola che ti guiderà nello sconfinato universo dei GCC. In Colleziono da Zero troverai consigli utili per muovere i primi passi in questo mondo, una panoramica sulle tecniche del collezionismo, come reperire intere collezioni attraverso strategie mirate senza spendere un patrimonio anche se non hai esperienza. Acquista ora la tua copia personale cliccando il link che ti ho lasciato in descrizione o direttamente su Amazon digitando nella barra di ricerca Colleziono da Zero. Grazie infinite per il supporto e buona lettura. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno i leader che domineranno i mari quando i quattro imperatori saranno disponibili sugli scaffali delle fumetterie locali. Andiamo a dargli un'occhiata. Per il primo elemento ci dobbiamo spostare in cucina Habitat Naturale di Sanji. Il cuoco durante la vostra fase principale una volta per turno fornirà un pericolosissimo rush ad ogni character presente sul vostro terreno con costo pari ad otto o inferiore, a patto che essi non abbiano l'abilità on play nel box di testo. Ebbene questo leader ha suscitato una grande attenzione fin dal suo annuncio. Infatti Gambanera sarà l'unico leader presente nel The Best, set molto interessante che a breve scopriremo anche qui sul canale. E quindi viaggiando su Dev, il catalogo delle carte singole di One Piece, vi lascerò il link in descrizione, ho iniziato a cercare una determinata tipologia di personaggi. Già perché se è vero che le abilità on play non rientreranno nelle mire dell'effetto del leader, i when attacking o qualsiasi altra keyword piuttosto ostica per l'avversario si sposeranno alla perfezione con il biondino. Qui però arriva il primo pensiero. Le carte di OP09 non sono state ancora spoilerate tutte e di rosse ce ne sono ancora molti da scoprire. Personalmente ho costruito un paio di mazzi che potrebbero girare, uno a tema Strohet e l'altro White Bird e devo dire che il primo mi convince di più, soprattutto con l'ausilio dei luffi di Romance Down che con solo i due Don attaccheranno per 7000. Mentre per il tematico barba bianca ci dovrò ancora lavorare ed appena sarà pronto, se sarà pronto, lo pubblicherò nella sezione community. Ma Vinsmoke non è solamente utile in un eventuale meta, ma anche in un pre-release sealed dove assieme a Zoro e Kid andrà a formare il tridente di attacco migliore mai visto fino ad ora per il gioco. E a proposito di release, a breve nelle terre del sollevante arriverà il nono capitolo che vedrà i quattro imperatori sfidarsi a suon di cannonate per il predominio dei Sette Mari. Tra essi ovviamente c'è la Star che più di tutte ha fatto parlare di sé, Barba Nera. Il suo effetto non vi permetterà di attivare le abilità onplay delle carte che possiederete, ma allo stesso tempo, durante la vostra fase principale, se scarterete una carta dalla mano impedirete anche all'avversario di attivare i propri. Forte davvero soprattutto perché può giocare attorno al numero di Don rivali. Vi faccio un esempio pratico. Katakuri nel prossimo turno ha 10 Don, scarto una carta dalla mano ed un'eventuale mamma a costo 10 non potrà attivare il suo effetto. Niente vita in meno per me e in più per l'avversario. Stessa cosa per Ace Rush. Manterrà la sua abilità offensiva, quello sì, ma non potrà fornire quella vita in più che per un Enel varrà oro. Semplicemente si assisterà, se possibile, all'ingresso di un pezzo molto grande, sì, ma che ha utilità pari a zero se non spaccare le difese rivali a suon di schiafi. Che comunque... Ma se credete che il peggio sia finito qui, vi sbagliate di grosso, perché esiste un'altra versione di Blackbird, quella character a costo 10. Ora, immaginate di aver di fronte lo stesso Enel di cui abbiamo parlato poco fa. La situazione sulla board alleata non è affatto male e l'avversario ha X cose sul terreno. Si hanno a disposizione 10 Don e si vuole chiudere in scioltezza, non privandosi però di una sorta di assicurazione se le cose non dovessero andare in porto. Esauriamo quindi 10 risorse e facciamo scendere in campo il blocker più grande a livello proprio di forza che il TCG di One Piece abbia mai visto fino ad ora. 12.000 in termini di potenza non solo vi preserverà da salti rivali, ma attraverso la sua attivazione da innescare durante la fase principale, una sola volta per turno, andrà ad annullare l'effetto di un leader rivale fino alla fine del turno e di un personaggio avversario fino al termine del turno di quest'ultimo, a condizione che Barba sia stato appena impiegato dalla mano e che il leader abbia il tratto Blackbird Pirate. Ah, quasi dimenticavo. Avete presente il personaggio nemico che avete letteralmente reso un palo in mezzo al campo di battaglia? Bene, ora assumerà maggiormente il termine di palo, dato che non potrà attaccarvi una volta che toccherà chi vi giocherà contro svolgere le sue dinamiche. Quindi iniziamo ad attaccare il dio del tuono che, una volta rimasto a zero vite, non potrà abbelersi del suo effetto, perciò o avrà un ottimo piano per salvarsi la pellaccia o dovrà sottostare alle angherie di Teach e Churma. La cosa quindi che mi preoccupa maggiormente, ricollegandomi al tema principale, è che si potrà assistere ad un'egemonia totale di questi due leader che, al loro modo, sfruttano le debolezze l'uno dell'altro. Il cuoco è un rush puro, l'effetto parla chiaro, mentre Barba lo vedo molto come control ed in effetti decidere di fermare le azioni rivali sul nascere, rientra in questi termini e stili di gioco. In più Sanji non utilizza, o per meglio dire, così è come lo do però io con una lista ancora acerba, character con effetti home play, infischiandosene delle possibilità del nero di giocare attorno alla sua capacità. D'altro canto, Marshall può iniziare a dirigere muri che difficilmente potranno essere valicati nel late game dallo stesso Sanji e quindi, come in un classico ed intramontabile scontro tra titani, tra un control ed un rush, se il primo prende le misure al secondo, difficilmente quest'ultimo avrà larghe possibilità di vittoria. Ok Arconte, invece di Robin giallo-viola cosa ne pensi? Rappresenta per me il più uno. Già ci sono carte valide per entrambi i colori che entreranno nelle grazie dell'abilità della studiosa e, come per i due leader appena menzionati, anche per lei sarà curioso scoprire ogni nuovo elemento che perorerà pieno la sua causa. Inoltre quel vanish quando infligge danno non è affatto male, anzi, tenete anche a mente che per il giallo o il viola ancora non è stata annunciata nessuna SR a supporto di Nico nel mentre sto registrando questo contenuto, quindi chissà cosa arriverà. Sono piuttosto curioso, devo ammetterlo. Perciò avremo in lizza un rush, un control e un ramp degni di nota, più tutto il resto derivante dallo stesso OP09 ed OP08. Si parlerà di tre archetipi che apporteranno alle dinamiche del gioco futuro diverse novità importanti. Poi magari andrà a finire che sarà tutto un fuoco di paglia, ma le condizioni ideali ci sono tutte e non mi sorprenderà affatto vedere il volto del meta cambiare drasticamente a favore di nuovi protagonisti che domineranno a modo loro la scena competitiva. I discorsi ovviamente ce ne sono molti altri da fare ed è ancora presto per addentrarci più a fondo nella tematica. Come sempre non ci resterà che aspettare ed osservare gli sviluppi che dall'Oriente ci permetteranno di dare un primo sguardo a cosa accadrà quando i quattro imperatori finalmente faranno la loro comparsa sui tavoli da gioco. Staremo a vedere. E voi cosa ne pensate dei nuovi arrivi annunciati nel The Best ed in OP09? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.